Anche sulla costa romagnola c'è chi scalpita per riaprire, ma si ragiona con cautela. A Rimini in realtà già nelle scorse settimane sono ripartiti i cantieri per il rifacimento del lungomare. Proseguono anche i lavori di piazzetta San Martino per il Museo Fellini, progetto per il quale la conclusione dell'attività di allestimento è attesa, salvo imprevisti, per la seconda metà di maggio. Mercoledì comincia invece l'intervento edile sulla scuola Montessori. Domenica si è riunito via web il tavolo provinciale sul lavoro tra prefettura, associazioni imprenditoriali, sindacali e ASL per parlare della fase 2. Il presidente della provincia di Rimini, Rizzero Santi, ha detto alla Corriere Romagna che le prime riaperture di imprese potrebbero avvenire già dal 27 aprile, privilegiando quelle che operano all'estero. Il nodo cruciale sarà come spostarsi. L'assessora ai trasporti del comune di Rimini, Roberta Frisoni, ha suggerito di rivedere gli orari di ingresso al lavoro e a scuola, spalmandoli nel corso della giornata, potenziando lo smart working, gli spostamenti a piedi e in bici e tramite modalità in sharing. Serviranno più mezzi pubblici e una costante loro sanificazione per scongiurare una corsa all'automobile, ha aggiunto. L'estate potrà servire da banco di prova. Sul turismo intanto regna l'incertezza più totale in tutta la riviera, fino a Ravenna. Qui si parte già con i bandi per i centri estivi, la cui attività, epidemia permettendo, dovrebbe partire il 15 giugno. E c'è chi rispolvera la suggestione dei cinema drive-in su Lidi Ravennati, per ora solo sogni nel cassetto.